Una grazie intanto per averci accolto e per averci consentito questa intervista. Una delle cose che vorrei chiedere per primo è l'approvazione di questo indicesimo piano quinquennale che ha portato delle novità sicuramente rispetto al progetto e al futuro della Siria. Quali sono le novità soprattutto sul piano dell'iniziativa con il privato e sul piano delle iniziative sociali? Thank you very much and welcome to Syria. The five-year plan aims at creating a strong, competitive, open and well-integrated Syrian economy that serves as a very strong regional hub for transit, trade, for commerce, for tourism, for energy and for investments and technology in the Middle East. A place where investors come from all over the world to set up in Syria and resell their products and services to the rest of the region. We also hope to see at the end of the five years a much more empowered Syrian citizen, empowered in culture, empowered in education, in science and technology. And there also the third area of focus is infrastructure that we will spend a lot of time and money and effort on building a very strong infrastructure of highways and railways and ports and airports to serve as a regional hub in the region. So in the next five years, we hope to achieve a 5.7% growth rate. We hope to invest around 100 billion dollars of private and public investments. And we hope to see the unemployment rate going down to 7.1% and we hope to see poverty is halved by 2015 according to the Millennium Development Goals. Quale è il ruolo dei paesi occidentali, dell'Europa in genere e dell'Italia in particolare in questo lungo processo di modernizzazione della Sicilia? Of course, Europe is still our biggest trading partner. And also our cultural exchange with Europe is historical. Europe has been helping through technical assistance in the economic reform and institutional reform programs in Syria. Specifically for Italy, Italy has always been our number one foreign trading partner, has always been also the main source of Syrian industry technologies. And it's very important to see that the role of Italian companies is now much increasing, much more, and we look forward to much more Italian company participation in the economic programs of Syria, especially in areas of energy, in transportation, in infrastructure, but also in the policy dialogue between the two governments on economic developments in the region and in the world. Uno dei grandi problemi che anche l'Italia ha avuto è quello della burocrazia. La burocrazia sia nello Stato che nell'industria. Grandi tentativi per semplificare i processi, rendere tutto più veloce. Su questi temi volevo sapere qual è l'attenzione della Siria e con quali progetti e con quali risultati attenzioni. Siamo anche il problema di Italia. In realtà, la burocrazia e la burocrazia sono la prima priorità di prossimo anni. E' per l'attività del prossimo anno. La prima prima è la raffazione del prossimo anno. E' per l'attività e l'administrativa. Nei, bisogna avere un servizio civile che comprende le necessità di un città, un intercattamento migliore di città, ma anche la necessità di un investimento. Oggi stiamo competendo con altri paesi del mondo. E' una competizione open. Deve avere un servizio rapido, trasparente, effettivo e responsabile. E questa burocrazia oggi non funziona. Ma l'intenzione è di andare avanti. Questo è probabilmente uno dei problemi più difficili, che stiamo faceando. Ma stiamo faceando con determinazione. E sappiamo che nel 2015, il servizio civile di città deve sembrare molto diverso da quello che è oggi. C'è un rapporto preferenziale tra l'Italia e la Siria sul piano della conservazione dei beni archeologici. E' una cosa che ha un grande passato e probabilmente avrà anche un grande futuro. Come spiega questo rapporto così stretto e così preferenziale tra i due Stati? Beh, questa speciale e preferenziale co-operazione tra l'Italia e l'Italia in l'area di città di città, riflessa un compagno molto importante che abbiamo una storia e una storia comunale. E che abbiamo una storia comunale. E che l'Italia e l'Italia hanno un rapporto speciale all'interno del Mediterraneo. E questa relazione speciale è molto importante per la pazza e la co-existenza, ma anche molto importante per la turismo e la co-operazione economica. Quindi crediamo che se guardate questo programma nel frameworko dell'Italia e l'Italia e l'Italia co-operazione, che attacchano a piccola e medievale, attacchano a prodotti agricolti, attacchano l'ambiente e infrastruttura. Se guardate tutto questo, e se guardate la role di l'Italia e l'Italia between the two shores of the Mediterranean, we are confident that this cooperation will actually reflect a much better atmosphere of understanding between the northern shore and the southern shore of the Mediterranean. That's the role we have played throughout history, and this cooperation is there to make sure that this role is also played throughout the future. We have talked about the partnership between the West and the Syria and the contribution that the West, and the Italy in particular, can give to the modernization of the Syria. But there is also a reciprocal problem. What is the contribution that the Syria can give to the West, and the Italy in particular, on the level of culture, on the level of the general idea of life, on the level of sensitivity to the environment, for example? This is a very good question, because exchange goes both ways. It's a two-way street. What could Syria give to the West? First of all, it could give an excellent example of co-existence and tolerance between different religions, between different cultures. Syria in itself is a place, is an excellent example of cultural co-existence and collaboration. This is something the West needs at the moment, due to the great issues it is facing with integration, with immigration, and all these matters. The second subject that is very important for the West, I think Syria is an example of a secular political regime, ruling a country of different religions and different cultures, on the shores of the Mediterranean, to have stability of such political regime, to have growth and prosperity of this example of cooperation, of this example of co-existence, is something the West needs very much, especially when you look at the type, the secular nature of the political system. Third, from an economic point of view, the opportunities offered by Syria to Western companies to come and invest in Syria, but also from Syria to Iraq and the rest of the region is an incredible opportunity. If you put all of these elements together, you can see that Syria offers the West an excellent source of stability, of tranquility, of peace, and all these matters are crucial for the future of prosperity of Europe itself. So I think Syrian-Italian cooperation in these fields is crucial not just for Syria, but also for Italy and all of Europe.